Nel pieno rispetto del più raffinato stile palladiano, Villa da Porto Slaviero è una location storica ed elegante, ideale per gli sposi che vogliano dare al loro ricevimento un tocco classico e sparzoso. La villa gode di una splendida navata centrale, capace di ospitare un ricevimento di massimo 70 persone, mentre l'ampia sala ricevimenti dispone di una capienza di 250 invitati. La struttura è immersa nella quiete di rigogliosi prati e giardini, in cui sarà possibile organizzare un meraviglioso banchetto all'aperto. Villa da Porto Slaviero è una cornice romantica ed esclusiva per il vostro banchetto. Dispone di un catering proprio, ma è anche possibile contrattare un catering esterno che potrà utilizzare la cucina professionale di cui è dotata la dimora. La costruzione della villa risale al 1500, ad opera del conte Porto. In seguito la sua proprietà passò ai Conti Velo e successivamente al nobile Giovanni Battista Clementi, che nel 1920 l'ha ceduta alla famiglia Slaviero, attuale proprietaria. Con gli anni la sua struttura interna ha subito delle modificazioni rispetto alla costruzione originale e vaste aree sono state divise al fine di garantire il massimo del comfort e della capienza ai propri clienti.